Un protocollo di intesa per la legalità e la salvaguardia da infiltrazioni malavitose che sono attratte dai fondi ZES, zona economica speciale, è stato sottoscritto stamani a Chieti dal prefetto Armando Forgione, il commissario Mauro Miccio, sindaci dei comuni interessati, Forze dell'Ordine, Confcommercio, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, ARIC e ARAP. Il documento è finalizzato a elevare, attraverso le attività dei firmatari, il livello di attenzione rispetto a indebite ingerenze nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori. I fondi invece sono fondi che vengono anche controllati e che quindi hanno necessità che il loro percorso possa, come dire, giungere a destinazione nelle forme dovute e necessario quel momento in più di attenzione da parte delle Forze dell'Ordine che qui sono tutte presenti e che è confirmatarie, ma anche di tutti gli altri enti perché ognuno poi, è vero che la Forza dell'Ordine controllano, ma poi anche negli enti che sono oggi qui seduti e che saranno presenti nel firmare, anche in loro deve subentrare quel momento di attenzione in più che deve, come dire, elevare la soglia, come dire, di sicurezza. Il volume di denaro attira l'attenzione inevitabilmente di chi non è, come dire, contornato da una cornice di legalità. La struttura commissariale ZES nasce per semplificare le procedure con cui le aziende possono potenziare logistica, digitalizzazione, efficientamento energetico, tra le altre cose. Ma ciò deve avvenire in condizioni di massima sicurezza senza che i flussi vengano intercettati da organizzazioni criminali. Nella zona di Chieti abbiamo 40 dei 50 milioni che sono di competenza del commissario come soggetto attuatore. Questi 50 milioni sono tutte infrastrutture che hanno a che fare con la logistica, con largamente porti e collegamenti ferroviari e stradali con i porti. Io sono abbastanza sereno che noi abbiamo firmato una collaborazione con la Guardia di Finanza nel mese di aprile di quest'anno. Abbiamo una collaborazione stretta con tutti e quattro i prefetti, anche di zone dove non ci saranno lavori. Mi riferisco all'Aquila e a Teramo, proprio perché ci sia sempre, anche per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, grande attenzione che si evitino quei passaggi tecnici che magari fanno passare di mani aziende all'ultimo momento con il rischio che ci possono essere. Il Presidente Mattarella, lo stesso Presidente del Consiglio, hanno di fronte ai milioni, anzi ai miliardi del PNRR, hanno sempre dato attenzione alle procedure. Io credo che sia assolutamente logico che ci sia la massima collaborazione, la massima condivisione con quelle che sono le regole.